Ciao Jay, mi chiamo Isabella, sono di Torino. Ho saputo che sei un appassionato di biciclette e ti vorrei proporre una cosa molto particolare qua a Torino. Potremmo andare in giro a vedere le luci di artista su una bicicletta molto divertente e molto particolare. E poi, qual'occasione migliore per andare a vedere i siti olimpici nelle nostre valli piemontesi e farci una bella sciata insieme, ovviamente. Ciao Jay, a per resto. Ciao.